Così diffonderai velocemente i tuoi poteri in tutta Parigi È normale avere paura Ma tu puoi superare la mia paura e andare avanti Lo so Non ho paura, posso farcela Non ho paura, posso farcela Non ho paura, posso farcela Un di più! Saffa il Progetto Oxygen! Niente ferme nel Progetto Oxygen! Dov'è questo? Che cosa ci faccio qui? E tu che sei? Perché siamo così piccoli? Va tutto bene, adesso abbiamo i rinforzi Lo catturate, miei concittadini! Bravo, Maledictor! Prendi il Miraculous! Milady, che è successo? Eri controllato da un mini Maledictor E devi anche rivedere le tue battute Devo guadagnare altro tempo? Quanto basta farmi radunare la squadra? Ehi ragazzi, aspettate! La foto di gruppo! Pegasus, te le trasporta a Desperia! Portale! Venu! Tocca a te, Ryuko! Dragone del vento! Carapace! Scudo protettivo! Lady, vado! Sconfigge il mare! Ciao, ciao! 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 Grazie, Ladybug! Miraculous Ladybug! Ben fatto! Liberty! Prossima fermata a municipio! Wow, è come se avessi un gigantesco déjà vu! Occorre un'idea geniale, Lady! Lucky Charm! Pensi che sarà sufficiente per riportare il tempo al suo equilibrio? L'ufficio internazionale dei pesi e delle misure! Questa organizzazione coordina le ore di tutto il mondo con il suo satellite! È appena fuori Parigi! Quindi questo satellite è sopra le nostre teste! Aggiustato quello, aggiustiamo tutti i dispositivi che dipendono dal tempo per funzionare! Ma come sapremo l'ora esatta da programmare nel satellite? Grazie a questo conto alla rovescia ho ancora un modo per sapere che ora è in realtà! Quando finisce, significa che è l'una e cinque! Sarà l'ora che metteremo dentro il satellite! È ora di potenziarsi! Ma qual è il piano per queste apparizioni? Lasciali alle mie coccinelle magiche! Potenziamento! Potenziamento! Sincronizziamo i cronometri! Ora ho il tuo stesso conto alla rovescia! Potenziamento! Pronto, Astrocap? Pronto, Cosmobugger! Ok! Decollo! Miraculous Ladybug! Ben fatto! Bella melodia! Che cos'è? È un pezzo classico! Così parlò Zaratustra! A proposito, di che cosa volevi parlare prima sulla Torre Eiffel? Oh, niente di importante! Lascia stare! Ok, penalty! Continueremo a giocare! Allora, non possiamo vincere! Lei non ce lo permetterà e gli occhiali sono lontani! L'unico modo per sconfiggerla è far sì che lei stessa rifiuti la kuma! Abbiamo cinque minuti per farle detestare il gioco del calcio così da abbandonare la partita! E come? Convincendola che non riuscirà mai a vincere! Saremo una squadra di invincibili supereroi! Useremo i nostri poteri a ultranza senza mai ritrasformarci! Ma questo è impossibile! Se usiamo i nostri superpoteri ci ritrasformeremo dopo cinque minuti! Vero! Ma possiamo far credere al Penal Team il contrario grazie al potere di Capricid! Ci serve una bacchetta magica! Io posso creare gli oggetti che voglio, quindi posso creare una bacchetta, ma non ho il potere di renderla magica! Vero anche questo, ma il Penal Team non deve saperlo! La squadra di Ladybug è in posizione! Mancano meno di quattro minuti prima che Ladybug e Chat Noir si ritrasformino! Allora, sei pronta per il conto alla rovescia, Lady Perdente? Mai esaltarsi per un gol prima che la palla abbia oltrepassato la linea! Genesis! Grazie a questa bacchetta magica potrete usare i vostri superpoteri a ultranza! Niente più limiti di tempo, niente più ritrasformazione! Potrete usarli illimitatamente! Ma questo è barare! Eri tu quella che voleva giocare, giusto? Beh, noi lo faremo a ultranza e ci piacerà un sacco, per sempre! Ehi, non toccarla! Scusa, adoro le palline! Riporta! Cosa? Brava, Miss Hound! Sublimazione! Sublimazione? Il tuo superpotere è renderti meno brutto? In realtà, il mio potere è a scegliere una superabilità e ho scelto di segnare un gol a ogni tiro! E sarà così ogni volta che prenderò la palla! È colpa vostra! È colpa loro! Tra i giocatori del Penal Team inizia a salire la tensione! Veleno! Alla grande, una squadra vincente è una squadra unita! Unita nella propria diversità! In cui le individualità di ciascuno possono esprimersi e migliorarsi! È questa la bellezza dello sport di squadra! Beh, come diceva il mio amico Arsène, la cosa importante nel calcio non è avere l'undici migliore, ma i migliori undici! Quindi continuerei a segnare ogni volta! Non è giusto! Già, ed è così che sarà! Per sempre! Confusione! Ma che cosa ha fatto? Questo sciocco ha scombustolato il mio potere! No, l'ho solo reso più divertente! Sei così inutile! No, tu sei inutile! Siete estrambi ridicole! Smettetela di fare qua qua! Sei tu quella che fa qua qua! Non fare questo rumore! Se non ci muoviamo non possiamo giocare! Ho chiuso con voi! Non posso sopportarvi un minuto di più! Siete ridicole! Assolutamente ridicole! Non ti arrendere, Penalti! Un po' di ridicolaggine non fa male a nessuno! Sei tu quello ridicolo! E lo è anche la tua Akuma! Sono stufa dei tuoi giochi! Attenta! Se toccate le illusioni spariranno! Sì, sì, tranquilla, arrivano! Plug, sta a te! Oh, io odio l'acqua e i piccioni! E il fatto che debba fare questo al posto di Chanoir! I gioielli sono proibiti in piscina, Ladybug! È il momento, Volpe Rossa! Temo che stavolta non abbiamo altra scelta, Milady! Credo sia il momento di arrendersi, gattino! Finalmente! Adesso! Prendili se ci riesci! Forse i piccioni non amano l'acqua, ma io sì! Nooo! Il mio richiamo per uccelli! Tieni, ecco a te! Niente più malefante, piccola Akuma! Ladybug, sconfiggio il male! Presa! Ciao, ciao, farfallina! Miraculous Ladybug! Divertiti pure con i tuoi trucchetti magici, Ladybug! Un giorno riuscirò a schiacciarti! E quella non sarà un'illusione! Sono davvero felice di rivederti, Adrion! Dimmi, sempre allergico ai piccioni? Pezzo! Come al solito, Plug! Oh, no! Sono stato ancora vittima di falena oscura, non è vero! Vorrei poterle dire che questa era l'ultima volta, signora Mie, ma è un miracolo che non riesco a fare! Non ne sarei così sicura! Volperossa, sei stata così presa dal tuo ruolo di guardiano che hai dimenticato di essere Ladybug! Hai trovato qualcosa nel libro! No, non c'era niente da trovare! E se le regole nel libro degli incantesimi non fossero tutte le regole esistenti, ma solo quelle che i guardiani hanno imparato finora sui Miraculous? Significherebbe che se il mio potere è il potere della creazione... Sì, crea! Gli unici limiti sono quelli che metti a te stessa! Wow! Che cos'è successo al tuo costume? E che cos'è quello? È un... Magical charm! Signora Mie, lo tenga sempre con sé. La proteggerà dai sentimenti negativi. Questo... Questo significa che falena oscura non riuscirà mai più a riaccomizzarmi! Avete sentito, amici miei? Non saremo più i cattivi di Parigi! Ben fatto! Quella ragazza è veramente miracolosa!